l 8 settembre segnerà un anno senza la defunta regina elisabetta seconda con molti in tutto il mondo pronti a ricordare il monarca regnante più longevo della gran bretagna megan markle e il principe ferri capitalizzeranno i tributi per la defunta regina a un anno dalla sua morte avvenuta l 8 settembre 2022 è stato detto che il duca e la duchessa segneranno l'anniversario a modo loro anche se la commentatrice reale anna mcgovern ha affermato che la coppia probabilmente farà qualcosa su se stessa la coppia che ora vive negli stati uniti dopo essersi dimessa dai doveri reali nel 2020 è attualmente in gran parte estranea alla famiglia reale a causa delle continue tensioni tra le due parti nonostante entrambi abbiano partecipato al funerale di stato della defunta regina l'anno scorso solo ferri ha visitato il regno unito in poche occasioni da allora molti membri della famiglia reale trascorreranno nell'estate nella tenuta di balmoral una tradizione tenuta anche dalla defunta regina con i sussex che secondo quanto riferito avrebbero negato un invito parlando della sua opinione che la coppia farà la giornata su se stessi la signora mcgovern ha detto che se così fosse manca completamente il punto di ciò che dovrebbe essere l'occasione il commentatore ha aggiunto penso che ne trarranno così tanto vantaggio e che i media ne trarranno beneficio sarà una notizia in prima pagina e penso che toglierà davvero l'occasione ufficiale in cui i reali si stanno radunando per onorare la defunta regina ha aggiunto non sarò sorpresa se ferri e megan troveranno qualche opportunità ovviamente per fare qualcosa ancora una volta su se stessi